Buongiorno a tutti, mi trovo qui oggi per presentare la comunità di Casatico. Cosa intendiamo per comunità? Il nostro paese si sviluppa su un asse principale, che è la strada Casatico o strada Goiano, che porta direttamente al paese. Questa strada porta direttamente a uno di quelli che sono gli edifici storici, religiosi e importanti. Hanno proprio un'importanza storico-artistica per tutti noi. La chiesa di cui stiamo parlando è la chiesa di San Giorgio Martire. Questa fotografia presenta la chiesa di San Giorgio Martire a Casatico di Langhirano, Parma. L'aspetto attuale della chiesa risale al 600, con varie modifiche che si sono susseguite nei secoli. Questa è una vista dall'alto della zona di Casatico. Vediamo sempre l'asse principale, che è strada Casatico o strada Goiano, che porta e che conduce i paesi tra di loro. La chiesa notiamo che ha faccia direttamente sul castello. Non è casuale questo. Quindi, per studiare i segni territoriali del nostro paese, lo possiamo osservare anche da questa semplice vista dall'alto. Abbiamo un'asse principale, che è questo, verticale, su cui vengono diramati degli assi orizzontali. Quindi, dalla loro unione vengono creati e venivano creati quelli che erano i monumenti sacri e importanti. Per studiare l'aspetto territoriale, i segni quelli che sono ad oggi del nostro paese, possiamo osservare la città di Parma. Questa pianta è una città di Azzi, incisa nel 1847 e dedicata al conte Cantelli. Questa incisione mostra, come si possono leggere, i due assi principali. La città sorge su un cardo maggiore e un decumano massimo, che sono una linea orizzontale e l'altra verticale. Alla loro unione veniva creata quella che erano o i monumenti che avevano un'importanza storico, politico e religioso, oppure delle piazze. Questi luoghi sono molto importanti per la città. Era importante per le relazioni, all'interno delle piazze si poteva avvenire il commercio, le relazioni. Non sono punti casuali predisposti nella città di Parma. Quindi, questo sviluppo della città di Parma lo possiamo benissimo anche confrontare col nostro paese di Casatico. La chiesa di San Giorgio Martire presenta degli assi principali, che sono strada Casatico, quindi un'asse verticale, la cui unione, la cui vengono intersecati degli assi orizzontali e la loro unione venivano creati e localizzati questi monumenti. Ad esempio, proprio un monumento religioso importantissimo, quale la chiesa di San Giorgio Martire, è proprio predisposta in questo punto specifico. Non è casuale. Come si presenta allora la chiesa? La chiesa, vediamo che il primo corpo, il corpo A, è la chiesa di San Giorgio Martire. Abbiamo una struttura accanto, che è la Canonica, un'abitazione del parroco annessa alla chiesa. Durante una scossa sismica è stato demolito quello che era il grande salone, lo vediamo comunque da una vista dall'alto oppure anche da questa immagine qui in alto. Questa muratura proprio era la pianta di quello che era un tempo la struttura adecente alla chiesa di San Giorgio Martire. Poi abbiamo un corpo che è stato aggiunto negli anni successivi, lo si può anche vedere dai materiali, una differenziazione di materiali. E abbiamo un corpo D che è la Torre Campanaria. Quindi questi edifici tra di loro creano una comunità, quella che è per il nostro paese. Ma non soltanto gli edifici strutturali, i corpi strutturali indicano i segni della comunità. Molto spesso anche i segni territoriali, quelli che sono già i segni dei campi, l'orditura dei campi, indicano proprio delle caratteristiche e dei segni simbolici anche spirituali. Ad esempio, accanto a quella che era la Canonica c'era proprio tutto uno spazio di aria verde. Per la comunità, per condividere qualcosa tra le persone, per esporre qualcosa, per fare delle feste del paese. E un grande elemento importantissimo è lo stradello, non a caso è sull'asse comunque trasversale dell'orditura principale della strada di Casatico, che conduce direttamente alla chiesa. Quindi non sono casuali i segni che noi oggi vediamo nel territorio preesistente. L'immagine che notate qui in basso sulla sinistra è l'ufficio parrocchiale che si trova in questa porticciola. Volevo mostrarvi un esempio pratico per la valutazione storico-artistica dei luoghi dei simboli religiosi significativi della città di Parma, per comparare quello che era un grande esempio del nostro patrimonio storico-religioso e artistico della città di Parma con San Giorgio un martire in Casatico. Qui parliamo di San Francesco al Prato. La ricerca è stata svolta con Eleonora, una cara amica. È durata due anni, ci siamo occupate sia dell'aspetto del rilievo della chiesa, che dell'aspetto bibliografico, storico e della documentazione. Per prima di tutto comprendere di cosa stavamo parlando, di cosa avevamo di fronte a noi. Perché molto spesso magari ciò che noi vediamo ha un'importanza, è un segno che è stato fatto nella storia. Quindi San Francesco al Prato a Parma, la data di progetto non è conosciuta, la prima posa non conosciuta nel 1380 ci fu l'inizio dei lavori, da padre Flaminio da Parma, in memorie e manoscritte. Successivamente, nel 1398, la chiesa non era ancora stata compiuta. Lo si nota in Pellicelli Nestore, in un documento del 1926. Nel 1461 viene terminata la facciata con la realizzazione del Rosone, opera d'Alberto da Verona, lo possiamo notare in questa fotografia qua, della facciata. La facciata si affaccia su una piazza di condivisione, per permettere proprio che sia l'aspetto strutturale, l'edificio, quanto quello che noi possiamo calpestare, quale può essere una pavimentazione, si possano unire tra di loro, per permettere una maggiore fruibilità anche degli edifici, c'è una maggiore connessione tra di loro, sia tra corpi che magari possono essere localizzati al di fuori dal centro storico, che tra di essi. Nel 1521, l'ampliamento della cappella, c'è fu questo ampliamento della cappella dell'Immacolata Concezione, che lo vediamo in questa immagine a destra. Il committente è l'ordine francescano. In queste slide abbiamo una carrellata della cronologia tratta dalle fonti scritte. Qui possiamo vedere il discorso fatto precedentemente, gli assi principali corrispondenti al cardo maggiore e al decumano massimo. In questo cerchietto in rosso vediamo dove è localizzata la chiesa di San Francesco al Prato. Intorno alla metà del XIII secolo si creano a Parma i maggiori edifici conventuali. Si preferiva una distribuzione omogenea per evitare la concorrenza nella raccolta delle elemosine. Questa è una rilettura dell'Atlante Sardi del 1767. Le freccettine in rosso sono state localizzate le chiese principali. I maggiori edifici conventuali della città. E se notate affacciano tutti proprio sul centro, quello che è la piazza principale, il funcro del commercio. Ha proprio una valenza simbolica. L'asse orizzontale e verticale dove si intersecano i due assi viene creata una piazza. Oppure dei luoghi, luoghi considerati di rilevanza politico-storica o anche religiosi. Carlo Manno nel 1877 dona al vescovo di Parma, Guido Bono, la Curtis Regia. Che è questa piccolina qui. Correlativo Prato-Pratum Regium, sul quale sorgerà la chiesa di San Francesco al Prato, quella che vedete in meretto. La Curtis Regia era al centro del potere civile e politico longobardo. Era collocata a est del Cardo, nella zona centro-eternale della città. Vediamo una vista, un inquadramento del complesso monastico francescano all'interno della città. Grazie a questo inquadramento, nell'immagine in alto a sinistra, potete notare il corpo A, che si tratta della chiesa di San Francesco al Prato. B è il convento, questi edifici che appaggiano sulla piazza sono alcuni edifici oggi ospitati all'Università di Parma. Il corpo D è l'oratorio dell'Immacolata Concezione, mentre C è la torre campanaria. Vediamo appunto il discorso che stavamo facendo prima sugli assi. Molto importanti perché erano proprio gli assi su cui si sviluppava tutta la città. Prima di studiare i corpi strutturali si studiava proprio tutto l'inquadramento a livello urbano della città e proprio i segni che noi oggi vediamo raccontano una nostra storia. Quindi un'asse verticale, orizzontale, è questo. Questo è uno stradello direttamente che porta al centro della città di Parma. Poi abbiamo un altro asse orizzontale e all'intersecazione vedete che c'è una piazza. Queste in bianco raffiguravano quelle che erano una volta le mura del carcere, che era proprio stato creato un muro divisorio. e vediamo qui tutto il complesso artistico-religioso. Quest'immagine è una visione aerea di tutto il complesso francescano, quello che ancora era adibito a carcere. Abbiamo una documentazione grazie a una fonte iconografica dell'Atlante Sardi del 1767. La pianta è stata ruotata, questo è lo stradello che va direttamente al centro, questo è a borgo degli studi, la chiesa di San Francesco al Prato, l'innesto dell'Immacolata Concezione, la torre campanaria, il monastero e il piazzale proprio di San Franco. Queste sono alcune immagini dove mostrano sia l'esterno che l'interno, gli elementi riconducibili allo stile gotico e allo stile romanico, mediante delle foto, sia dell'esterno che dell'interno. La pianta della chiesa è una pianta basilicale, a tre nevate, con absidi foligonali. L'orientamento della chiesa era l'altare ad est, le finestre, infatti, degli absidi erano state create per dare illuminazione proprio quando sorge il sole, mentre la facciata, che questa è la facciata della chiesa, originariamente era stato creato un rosone, che è questo in alto, perché questa facciata è a ovest, quindi per permettere di far entrare quella poca luce che viene quando il sole tramonta, di permettere che possa entrare all'interno della chiesa e illuminare queste tre nevate. Quindi ha una nevata maggiore e due laterali minori. Questa è un'immagine all'interno della chiesa, la facciata che noi possiamo notare è la facciata ovest, le aperture che sono state fatte in aggiunta negli anni successivi, quando la chiesa era adibita a carcere, vediamo proprio che ha snaturato completamente la struttura della chiesa, la facciata, quella che era la facciata della chiesa. Questo è l'interno dello scorcio della navata laterale nord, vista verso la facciata. Questo è un altro interno, lo scorcio della navata laterale sud, vista verso la facciata. Si possono vedere un tamponamento delle finestre e delle capelle laterali e abbiamo alcuni scorci che mostrano l'esterno della chiesa e dell'oratorio. Questa immagine mostra verso la facciata est dove si trovano i tre apsidi, uno maggiore e gli altri minori. Queste sono altre immagini viste dall'interno perché durante gli scavi tra il 1996 e il 1999 si intravede la sequenza delle capelle laterali nord separate dalla navata minore, dal muro perimetrale originario. La chiesa è divisa da due file di sole e quattro robuste colonne per lato. Le colonne sono alte 8 metri circa e hanno un diametro di 1,60 m. Sono prive di entasi e mancano totalmente di abaco e polvino. Sono interamente fatte di mattoni, cotti e poggiano direttamente su base di forma quadrata. Sono alcuni particolari perché era stato trovato un basamento la cui funzione non era ancora conosciuta. quindi grazie alle ipotesi di Fiore e di Marchetti si sono ipotizzate che possa essere un basamento per le impalcature di cantiere oppure un basamento che potrebbe assomigliare ad uno giacolo di un antico pilastro. Dagli scavi effettuati dalla Catarsi durante il periodo del 1996-99 è emersa una fornace per laterizi di struttura rettangolare di circa 11 metri per 750. Potete vedere proprio qui subito nella parte in questa zona questa fornace l'esterno la facciata est con gli absidi quindi abbiamo un abside maggiore molto illuminato gli altri due laterali la prima immagine sulla sinistra è una foto quella che ad oggi è allo stato attuale mentre nella foto di destra era la foto storica proprio documentata da Zanotti gli absidi sono poligonali l'abside maggiore presenta una copertura a volta con delle nervature che la dividono in 10 vele a differenza degli absidi minori che le dividono in 7 vele le nervature concludono in una chiave di volta con cornice tondeggiante entro la quale spicca il dio padre benedicante benedicente l'abside maggiore ha una copertura a volta con nervature il dipinto del Cristo dove si trova il dipinto di Cristo Pantocratore opera di Bartolino Grossi Jacopo Loschi nel circa del 1460 1662 notiamo proprio che ogni segno proprio rappresenta qualcosa proprio un valore simbolico molto spirituale l'interno la sommità degli absidi laterali questa è una vista degli absidi laterali sul lato nord le nervature si uniscono sempre in una chiave di volta con cornice tondeggiante dentro la quale spicca l'agnello di dio antistante all'abside minore nord si protendeva una campata che era fulcro di passaggio lo possiamo notare da un'apertura che è stata trovata che porta direttamente all'accesso al convento di fianco innanzi all'altare dell'abside maggiore sono stati rinvenuti delle parti di pavimentazione proprio differenti l'una dall'altra una in coccio pesto alta un metro da quello originario mattoni e una seconda pavimentazione spina di pesce e l'ultima con mattoni disposti linearmente possiamo notare questa differenziazione di pavimentazione proprio nella foto in alto l'interno abbiamo una vista da abside sud-est con la pavimentazione proprio lo si nota dalla differenziazione di pavimentazione quindi quote diverse e proprio pavimentazione differente abbiamo una pavimentazione a spina di pesce da un lato mentre dall'altra abbiamo una pavimentazione con mattoni disposti in modo lineare possiamo notare nella navata laterale sud una tomba alla cappuccina si ipotizzava anche la differenza di pavimentazione per dare rilevanza e importanza a quelle che erano le tomba all'interno della chiesa l'immagine in alto si può notare questa tomba proprio alla cappuccina e queste sono immagini dei particolari degli abside nel lato est i cornicioni di gronda dell'abside maggiore sono formati da archetti a tutto sesto intrecciati provenienti da uno stile romanico e dei denti di sega arrotondati i cornicioni delle abside minori invece sono formati da archetti a sesto acuto uno stile gotico lievemente trillobati e sormontati dallo stesso motivo decorativo nella meridionale l'esterno della facciata ovest il coronamento esterno è formato da quattro moda natura la prima da archetti acuti intrecciati di poco rilievo la seconda da archetti contenenti conchiglie che sono questi il terzo archetti trilobati intrecciati di maggior rilievo il coronamento esterno questo è il lato sud i particolari degli archetti e nel 1461 ci fu la realizzazione dell'ampio rosone da parte di Alberto da Verona l'immagine che potete osservare una veduta del prospatto della chiesa come si presentava i primi del 1800 in un disegno del San Severini le nicchie trilobate poste nei contrapporti non presentavano alcun segno di dipinto mentre appaiono seppur in modo grossolano l'indicazione degli affresi che erano posti nelle lunette dei portali nella lunetta dell'ingresso principale era stata dipinta la Vergine inginocchiata innanzi al bambino Gesù nel 1462 da Bartolomeo Grossi e Jacopo Poloschi questa è l'immagine dell'esterno del complesso religioso questa è la torre che fu realizzata nel 1506 queste aperture piccoline che vedete erano state create nel periodo napoleonico si può proprio notare la suddivisione di piani e di celle questa è una veduta generale dell'interno della chiesa questo è l'oratorio dell'immacolata concezione questo è l'ingresso si accederà questa povertà e si entra all'interno dell'oratorio qui è la torre campanaria e questo corpo che si vede in sfondo è la chiesa di San Francesco al Prato l'immagine in basso a sinistra è un disegno di Alessandro Sanseverini dove è raffigurata la porta d'accesso dall'esterno alla cappella descritta come facciata della piccola chiesa è tutt'oggi presente in strada del Prato numero 4 mancante però del supporto della croce che si ergeva sul timpano quindi mancante del supporto della croce con la croce questa è un'immagine dell'interno dell'oratorio dell'immacolata concezione il 30 giugno del 1769 ci fu il reale dito di soppressione degli ordini religiosi voluto da Dutilot il complesso conventuale di San Francesco al Prato viene soppresso il primo settembre 1804 ci furono i lavori da farsi ai conventi per trasformarli in alloggi delle truppe Giuseppe Cocconcelli ingegnere e architetto compiere una distinta di lavori da farsi il 9 giugno del 1805 ci fu l'editto napoleonico il 30 giugno del 1809 il progetto Giuseppe Cocconcelli questa è una veduta di un acquerello di Giacomo Giacopelli del 1850 circa dove mostra la facciata della chiesa ad esempio notiamo sono privi di portali sono state aggiunte apertura e lo possiamo notare anche da una fotografia da notare anche un cancello divisorio tra quello che era carcere e il restante città questo è un'immagine iconografica che mostra proprio la pianta di San Francesco al Prato con i lavori compiuti quindi una pranimetria post 1650 notiamo proprio la divisione delle celle ed erano state create proprio ad esempio scale nella nella facciata stanze adiacenti e proprio divisione delle novate qui è la relazione delle due piante ecco l'immagine a destra mostra la planimetria della chiesa di San Francesco al Prato in uno stato originale mentre nell'immagine iconografica a sinistra mostra proprio la differenziazione di celle e la divisione proprio che era stata creata che era stata creata proprio per dividere quelle che erano le celle al restante carcere questa è un'immagine che mostra proprio l'interno veniva proprio creato un tamponamento con settimurare tra una colonna e l'altra con piccole aperture che indicano le varie celle quindi la chiesa era completamente devastata proprio non era più nel suo aspetto originario era completamente modificata questa è una pianta iconografica del 1809 dove proprio vediamo in rosso sono state indicate le ricostruzioni delle murature sempre del periodo napoleonico quindi vediamo ad esempio anche la separazione anche la chiesa di San Francesco al prato e l'oratorio dell'immacolata concezione questa è un'immagine molto significativa dell'esterno della chiesa di San Francesco al prato quindi vediamo che era completamente patrimonio artistico e storico culturale della nostra città notiamo proprio un muro divisorio tra la chiesa quello che era adibito a carcere e città quindi possiamo comparare la chiesa di San Francesco al prato come grande nostro grande patrimonio storico artistico culturale con la chiesa di Casatico di San Giorgio Martire quelli che noi oggi magari possono essere segni invisibili del territorio hanno molto da comunicare con noi perché indicano quello che erano i segni dei nostri antenati la nostra storia questa zona è suddivisa da un corpo che è la chiesa di San Giorgio Martire aveva un suo spazio parrocchiale e successivamente negli anni è stato creato un corpo in aggiunta è dedicato alla comunità anche lo spazio adiacente era uno spazio proprio creato per anche come rispetto in varie zone di cimitero di chiesa anche lo spazio che hanno adiacente è uno spazio di rispetto proprio per per i nostri monumenti sacri anche quello che noi vediamo un comune stradello che porta alla chiesa ne abbiamo due uno che porta direttamente alla chiesa e l'altro era stato creato proprio per permettere al paese e a chi veniva da fuori per accedere alla comunità anche ogni stradello che porta che conduce alla chiesa o gli spazi religiosi hanno un grande significato sin dall'antichità ogni stradello che conduce alla chiesa ha lo scopo di purificare l'anima quindi purificare i nostri peccati abbiamo chiesto a dei bambini cosa significasse per loro comunità questo è il risultato ecco cos'è comunità per loro comunità è stare insieme quindi sarebbe molto bello anche valorizzare quelli che sono i nostri segni storici relativi alla comunità che siano beni condivisi per tutti quindi i simboli della spiritualità sono la planimetria della chiesa di San Giorgio Martire la torre campanaria la canonica l'abitazione del parroco annessa alla chiesa uno spazio di aria verde che è condivisa da giovani feste del paese e spazio di luogo comune e i passaggi quelli che sono passaggi carrabili pedonali che conducono direttamente sia alla chiesa che allo spazio di condivisione e della canonica sin dai tempi antichi le strade e i passaggi che conducono la chiesa e i corpi architettonici religiosi hanno la funzione di connettersi a ciò che è sacro e attraverso lo stradello che conduce i corpi adibiti alla comunità spirituale hanno la funzione di purificare le anime del peccatore prima di accedere all'interno della chiesa diamo vita alla comunità di Casatico valorizzando i segni e i simboli storici del nostro paese per l'intera comunità ogni segno simbolo del territorio è il nostro patrimonio storico artistico e culturale porta la storia dei nostri antenati e di chi ci ha preceduto impariamo a rispettarlo e a valorizzarlo per l'intera comunità non a caso gli stradelli hanno una vista direttamente al castello non è casuale quindi il rapporto ha anche tra castello e chiesa prendiamo esempio dai grandi edifici storici religiosi che ci hanno preceduto sono parte integrante del nostro patrimonio storico artistico culturale e spirituale per l'intera comunità e per l'intera comunità Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.